Cari ragazzi, abbiamo terminato il nostro viaggio all'interno dell'urbanistica. In realtà è stato solamente l'antipasto perché adesso è giunto il momento di mettere in pratica le nostre conoscenze. Seguite le istruzioni del video che segue e lavorate all'interno dei gruppi cooperativi secondo le istruzioni che vi darò. Buon lavoro! Ripercorriamo il percorso fatto finora. Abbiamo scoperto la città attraverso l'ascolto di alcuni brani musicali. Abbiamo letto e riflettuto insieme su alcuni paragrafi dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Abbiamo studiato il documento urbanistica e territorio per conoscere in maniera più approfondita che cosa è un territorio e come questo viene gestito nel tempo. Ora è il momento di concentrarci sull'obiettivo numero 11 dell'agenda 2030. Vediamo come fare. Ci collegheremo al sito dell'ASVIS e andremo a cercare il goal numero 11 in città e comunità sostenibili. In questa sezione troveremo una selezione di articoli. Prenderemo un articolo per ogni gruppo di lavoro e lo andremo a leggere e ne trerremo una presentazione o comunque un documento che condivideremo insieme durante una delle prossime video lezioni. Questa è la sezione del sito che ci interessa asvis.it slash goal numero 11. Partiremo sicuramente dal vedere tutti quanti il video introduttivo, quello di mediamo.net. A seguire ogni gruppo di lavoro sceglierà uno di questi articoli e facendo le opportune ricerche anche in termini di approfondimento, a partire che quello che gli articoli ci proporranno, dagli argomenti che gli articoli ci proporranno, andremo a realizzare una presentazione o comunque un documento che condivideremo in occasione di una delle prossime video lezioni. Vi dico molto brevemente quali sono gli articoli su quali sicuramente possiamo concentrarci. Stiamo restando che ogni gruppo sceglierà un solo articolo e eventualmente potranno essere due qualora ce ne sia la necessità perché riteniamo che il lavoro che abbiamo fatto non è particolarmente approfondito. Allora, sicuramente possiamo andare a vedere questo articolo sul rapporto dell'ASVIS 2019 in cui si parla di città meno inquinate ma in cui aumenta l'abusivismo edilizio che è un tema che noi abbiamo trattato in classe. Possiamo sicuramente andare a vedere come ad esempio alcuni luoghi del mondo hanno risolto in qualche modo attraverso delle idee, delle azioni sicuramente molto importanti, diciamo problemi tipici di quel territorio. Possiamo sicuramente andare a vedere questo video sulle smart city, possiamo andare a vedere questo articolo sulle periferie, che cosa è il concetto di periferia. Possiamo sicuramente andare a vedere questo articolo di REN21 in cui si parla delle città che rappresentano il 75 per cento delle emissioni globali. Possiamo sicuramente andare a vedere cosa succede in Danimarca e Svezia e Finlandia dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi dell'agenda 2030 in rapporto alla città. Possiamo vedere ad esempio il rapporto tra città zero emissioni e clima. Ecco ci sono moltissimi articoli come vedete da cui possiamo prendere spunto. Ecco io ve ne ho indicati solamente alcuni, voi siete ovviamente liberi di indicarne eventualmente degli altri. Quelli di cui vi ho parlato sono sicuramente molto interessanti, ce ne sono altri ad esempio sulla lotta al cambiamento climatico e sulle città, oppure sul fenomeno dell'overtourism, cioè di come gestire l'impatto di un terismo quando questo soffoca le città. Pensiamo a Venezia. Ecco c'è veramente una vastissima scelta. Ecco da ognuno, dall'analisi di ognuno di questi articoli, o meglio uno per ogni gruppo, massimo due, possibilmente in relazione tra di loro, se sono due articoli, se scegliamo all'interno del gruppo di analizzare due articoli, potremmo anche fare un'operazione di questo genere. Se all'interno del gruppo siamo quattro, ogni coppia potrebbe prendere un articolo, in modo tale che all'interno del gruppo abbiamo due articoli diversi su cui ci siamo impegnati nell'analisi. Ovviamente i due articoli dovranno essere nel modo migliore possibile in relazione tra di loro. Ecco questo credo che possa essere un ottimo modo di procedere da questo punto di vista. Bene, attendo allora i vostri elaborati, le domande le potete ovviamente porre durante le video lezioni, ma anche attraverso le piattaforme digitali che stiamo utilizzando. Buon lavoro a tutti!